Sempre più apprezzato, sempre più nazionale. Di anno in anno il Natale che non ti aspetti si conferma un volano capace di attrarre tantissime persone e di ravvivare l'economia dei nostri territori in un periodo ben lontano dalla bella stagione. A dirlo, come sempre, sono i numeri. Un milione di visualizzazioni sulla nostra pagina Facebook, 25.000 visite sul nostro sito, oltre 400 pullman, 2.000 volontari impiegati, 120 e abbiamo avuto 50 servizi televisivi a livello nazionale. Ma i numeri più importanti sono questi, 270.000 visitatori che vanno dal 26 di novembre al 6 di gennaio. È un progetto che ha destagionalizzato un periodo di bassa stagione creando un pull importante del nostro territorio. E questo lo dobbiamo quest'anno, grazie anche al volano, una madrina d'eccezione che il Ministro del Turismo, l'On. Santanchè, che ringrazio. Abbiamo avuto la possibilità, grazie alla Regione Marche, al Presidente Francesco Acquaroli, a tutta la Giunta, di avere la possibilità sempre di più di implementare e avere in appoggio la Regione Marche, che ci ha dato una grande spinta per promuovere questo bellissimo evento che richiama turisti da tutta Italia. E voi pensate che quest'anno abbiamo avuto anche turisti americani, abbiamo avuto un pullman di turisti americani che sono venuti a Candela Candelar. È una delle forme forse più inedite e più avanzate di attività culturali, folcloristiche e tradizionali che si stanno svolgendo sul nostro territorio. E quindi è chiaro che noi intendiamo sostenerla, l'abbiamo sostenuta anche quest'anno con il nostro contributo, con il nostro patrocinio della Regione e credo che anche i risultati ci diano ragione. 22 i borghi coinvolti, per altrettante proloco che si sono messi in rete ottenendo risultati ben oltre le aspettative. Sono tre però gli eventi locali di rilievo nazionale che fanno da traino anche per tutti gli altri. Parliamo di Candela Candelara, parliamo di Natale a Monbaroccio, della Festa Nazionale della Befana di Urbania. Questi sono i primi, tre principali eventi che aiutano tutto l'intero comparto delle proloque di tutto il nostro territorio. E dico sempre, il nostro motto è l'unione fa la forza, noi insieme possiamo crescere. Vorrei anche in particolar modo ringraziare l'onorevole Antonio Baldelli che ci ha aperto la strada presso il Ministero del Turismo, avendo avuto quest'anno in concessione il patrocinio. E da qui abbiamo, credo, gettato le basi e dico sempre grazie di cuore per averci creduto, per averci messo il massimo impegno perché non era scontato ed è la prima volta. È stato quasi naturale dare una rilevanza nazionale a questa manifestazione, questa splendida intuzione del Presidente Bartoccetti che ha voluto fare delle piccole realtà, una rete e quindi dare forza a queste piccole realtà. E poi il grande progetto del Christmas Trail che dovrebbe sicuramente dare per la prossima edizione ancora un'ulteriore spinta. Sì, perché il prossimo step sarà quello di collegare letteralmente il Natale che non ti aspetti con i famosi mercatini natalizi di Bolzano, con un vero e proprio treno. Ci auguriamo e ci aspettiamo sia da parte della Regione Marche che da parte del Ministro un forte interessamento fin da subito per poter mettere insieme il treno che parte da Bolzano, che attraversa Mezz'Italia e che si ferma da noi e che possa portare i turisti nel nostro territorio anche per dare una svolta ecologica al nostro territorio e a tutto il nostro comparto turistico. E dare anche la possibilità a tutti di poter venire a visitare i nostri borghi e da qui andare anche a visitare Bolzano. Perché dobbiamo pensare sempre di camminare insieme. E' un grande progetto a livello nazionale e oggi lo chiederò a gran forza all'On. Baldelli di farsi portavoce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso il Ministero perché questo progetto nazionale venga riconosciuto anche con uno sforzo economico da parte dello Stato perché questi soldi che arriveranno, questi contributi che possono arrivare aiuteranno il comparto economico. Voi pensate solo che i camperisti, oltre mille camperisti, oltre 400 pullman che sono andati nei nostri borghi hanno mangiato, degustato, acquistato prodotti e quindi i ristoranti, gli alberghi, i B&B, i produttori locali, l'artigianato artistico hanno lavorato tutti a pieno ritmo. Dietro i numeri, le persone. Al cuore di tanto successo vi sono senz'altro i 2000 volontari che senza chiedere nulla in cambio donano tempo e sudore per la realizzazione di questo grande progetto. Sicuramente la forza della Proloquo è la forza delle migliaia di volontari che offrono la loro attività, il loro tempo per far crescere il nostro territorio, una crescita turistica, economica e quindi anche un modello da replicare su scala più ampia.